Ciao, sono Paola, sono una ragazza italiana, vengo da Sud Italia, precisamente Puglia, e il mio lavoro in Italia è cameriera e in Italia solitamente ho un resepzionista. Ho scelto questa scuola in realtà in modo casuale, perché ho solamente cercato su Google scuole che insegnano lo spagnolo in Colombia, ed è stata stata nella pagina web, e quindi richiedendo e informandomi alla fine ho deciso di farla, di imparare lo spagnolo con questa scuola, e devo dire che mi sono trovata molto bene. Con la scuola mi sono trovata bene, fin dal primo giorno, e tutti i professori sono stati carini, sono stati molto gentili, disponibili, e devo dire che ti aiutano in tutto, fai domande, ti rispondono in modo comunque esaliente. La cosa divertente è che si organizzano anche attività, sia nella settimana, tipo attività come imparare la salsa locale o vari latinoamericani in generale, oppure classe di cucina, o anche nel weekend puoi fare delle escursioni che sono un pochino lontane da Bogotà, quindi un'escursione in una città vicina, e puoi andare a vedere la cultura, e puoi imparare di tutto, è comunque un'esperienza bella, perché poi ci sono altri studenti provenienti da tutte le parti del mondo, ed è bellissimo, perché conosci tanta gente, la gente anche locale qui è, come si dice, super genere, anche, abbiamo anche un locale tra noi che è un ragazzo fantastico, chiedete tutto quello, tutti i problemi che avete, chiedetelo a lui, che vi aiuterà sicuramente in tutto, però sì, se volete imparare lo spagnolo, vi consiglio questa scuola. Mi rimarrà per sempre il cuore sicuramente la cultura che hanno, come di essere sempre rilassati, cioè nonostante i problemi che hanno, nonostante magari che non abbiano tutto quello che noi in Europa abbiamo, sorridano sempre, più o meno, io ho incontrato gente che sempre sorrideva, e era comunque molto cortese, ovviamente, non tutti, però la maggior parte, quindi sicuramente questa caratteristica della loro personalità è una cosa che mi piace molto, e anche la loro cultura dei balli latinoamericani, che sono veramente belli da imparare. Della scuola, invece, credo che mi rimanano nel cuore comunque tutti i professori, che comunque sono, ripeto, molto gentili, e anche il fatto che ho incontrato moltissime persone della mia età, o più grandi, che hanno vissuto questa esperienza con me, quindi ci siamo trovati bene, l'abbiamo realizzata insieme. Quindi, signori e signore italiani, pubblico italiano, se volete imparare lo spagnolo, uno spagnolo di Spagna, che è molto divertente, venite in Colombia, e alla scuola Neolengua. Grazie, Neolengua! Grazie a tutti!